Ma per l'amministrazione comunale la residenza artistica dei teatri ha una duplice valenza. Da una parte è una risorsa per l'amministrazione perché significa da parte di un nucleo selezionato di compagnie e di associazioni una presenza più continua, la produzione annuale almeno di uno spettacolo e dall'altra permette anche di aiutare in qualche modo dando visibilità e dando la possibilità di una produzione annuale oltre che di poter circolare in ambito regionale se questo diventa possibile a quelle compagnie e quelle associazioni che ci sembra siano quelle che stanno dando di più da un punto di vista culturale alla città. Abbiamo valutato la crescita dei progetti e dei programmi di festival o comunque di scadenze annuali che ci sono state proposte. Nel caso di teatri e scatola abbiamo visto come questa iniziativa partita possiamo dire molto modestamente abbia rapidamente trovato un proprio pubblico facendolo crescere, una propria identità sul versante della sperimentazione anche linguistica e quindi trovando una connotazione che mancava nel territorio e da questo punto di vista ci è sembrato opportuno allora cogliere questa possibilità a noi e offrire a teatri e scatola una possibilità di ulteriore crescita.